Questo video riguarda i migliori tre termostati Wi-Fi Smart. Il vincitore della qualità è l'ANUEL THR99C, termostato smart di ultima generazione. Evo Home è il cuore del riscaldamento domestico. Consente di creare fino a 12 zone controllabili singolarmente. Accesso remoto con app Total Connect Comfort, TCC, compatibile con Google Home e IFTTT. Permette all'utente di gestire rapidamente il riscaldamento domestico. Accesso remoto tramite tablet o smartphone, incluso nel kit, console e supporto da tavolo. La programmazione versatile e intuitiva rende più efficiente il controllo del riscaldamento domestico in base alle vostre esigenze. I comandi precisi e facili da usare consentono inoltre di rirmiare denaro. Avvio ritardato e optimum stop ottimizzano i tempi in modo intelligente. L'algoritmo TPI adattativo adegua ogni zona alle condizioni meteo e alla stagione. È possibile connettere ed espandere il sistema combinandolo con vari componenti di qualità. Fra cui teste termostatiche, riscaldamento a pavimento e termostati wireless supplementari. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Honeywell T6. T6 è un termostato wifi in grado di controllare il riscaldamento quando si è in casa o dovunque ci si trovi. L'ampio touchscreen retroilluminato facilita la programmazione, la modifica e l'override della temperatura grazie all'ottima leggibilità e all'intuitiva guida integrata. Il termostato Smart T6 funziona con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home e FTTT, riuscendo così a ottimizzare il comfort della vostra casa, sia ora che in futuro. Grazie al geofencing, la Honeywell Home usa il vostro smartphone per sapere quando siete a casa, in modo da risparmiare energia quando siete fuori e farvi trovare la casa calda al vostro rientro. Scegliete le impostazioni adatte al vostro stile di vita, ad esempio 7 giorni, 5 più 2 giorni o giornaliera, fino a un massimo di 6 fasce orarie al giorno, regolabili da remoto in caso di cambio di programmi. Il vincitore del premio è il Meros Valvola Termostatica. Se questo è il primo acquisto, si prega di acquistare prima il MTS 150 HHK-EU. Non utilizzare batterie ricaricabili. Richiede Wi-Fi da 2,4 GHz. Il termostato Meros Smart Home supporta il controllo vocale di Siri, Alexa e Google. Supporta il controllo del dispositivo tramite l'app Meros App e Apple Home. Sono supportate fino a 6 finestre di tempo. Le finestre aperte vengono riconosciute e il riscaldamento si arresta automaticamente per 30 minuti. Fino al 30% dei costi di riscaldamento in inverno. Svitare il vecchio termostato e avvitare quello nuovo. Nella maggior parte dei casi funziona a mano, in alcuni casi è necessaria una pinza per tubi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.